È importantissimo vincere, abbiamo davvero giocato come squadra oggi, abbiamo iniziato dal primo minuto a dare tutto e abbiamo giocato in cinque vunker, in una zona d'attacco anche dietro e abbiamo lavorato tutti i cinque e sì, dobbiamo andare avanti così. La differenza secondo te cosa l'ha fatta stasera? Secondo me abbiamo patinato oggi di più di loro, abbiamo vinto le battaglie nei angoli e quello oggi secondo me ha fatto la differenza. Io credo che la nostra squadra oggi è stata una scena, abbiamo fatto la prima scena, siamo pronti e siamo pronti, siamo pronti, siamo pronti, siamo pronti, siamo pronti, siamo pronti, siamo pronti. Come è importante ora questo Spiel 1? Sì, ovviamente, è riuscita, ma è solo un gioco. Siamo pronti per il secondo gioco, perché magari è stato un stadio difficile. Siamo pronti per il secondo gioco e questa è la prossima chance per il secondo gioco. Io credo che abbiamo giocato solo una unità di 5 oggi. Abbiamo giocato con la velocità, stavamo sulle pucche. Abbiamo avuto un buon 4-Check e un buon Ozone. Questo ha aiutato a generare molte Chancenze. Abbiamo avuto un po' di scopo. È sempre bello di giocare con la squadra, quindi abbiamo bisogno di continuare a continuare. Come ti aiutate? È bello, abbiamo lavorato per questo tutto l'anno. Per il top 4 e per il gioco. Le fanci sono eccoci, quindi ogni volta che si può giocare in fronte di loro e farci l'energia, è bello. È bello avere.